Nel programma Il Cantante Mascherato abbiamo visto l'eliminazione dei Colombi e capiamo un attimino chi erano, qualcuno potrebbe essersi persa questa particolarità. E allora, anche nella serata di sabato 25 è proseguito lo show di Millie Carlucci che, si sa, vede sfidarsi con il canto, tanti personaggi famosi travestiti appunto con le maschere, quindi non sai mai chi c'è dietro. Ebbene, la settimana scorsa non sono mancate le polemiche sia per delle scelte da parte del pubblico che in pratica è andato ad eliminare un concorrente che secondo tanti avrebbe sì dovuto proseguire, sia per la durata della puntata che ha sforato, insomma, durato troppo praticamente. Ma quest'anno il cantante mascherato si crede di essere Sanremo? Ha detto qualcuno e Millie Carlucci ha dovuto chiedere scusa a Nunzia De Girolamo per l'orario. Inoltre molti telespettatori hanno fatto notare. Ma la gente a casa non ha capito come funziona il gioco, deve restare in gara chi non si capisce, no il criceto che si è capito ancora prima di cantare. Alla fine è stato eliminato il cigno, dietro il quale si nascondevano Sandra Milo e Antonio Mezzancella. Ieri la seconda eliminazione. In una serata ricca di colpi di scena i colombi sono stati eliminati, mentre la stella ha proseguito il suo cammino. Dietro quest'ultima potrebbe nascondersi Simona Ventura. Almeno questo il pensiero di molti. E i colombi chi erano? Beh, parte della giuria ci aveva azzeccato ancora prima di smascherarli e a fine puntata si è avuta la conferma. Dietro la maschera c'erano Simona Itzo e Ricchi Tognazzi. Dopo aver scoperto chi si celava dietro i colombi Simona Itzo ha ringraziato la giuria, mentre il pubblico ha applaudito tantissimo la loro esibizione. Questa giuria le parole dell'attrice ha detto delle cose meravigliose su di noi. Mentre Flavio Insigna aveva ricordato i premi vinti in carriera dai due e Ricchi Tognazzi ha ironizzato, tutti i premi che Flavio ha citato verranno ritirati domani. Inoltre Simona Itzo ha spiegato che tra poco i due saranno impegnati nelle riprese di un film e quindi in ogni caso la loro esperienza a il cantante mascherato si sarebbe dovuta interrompere comunque presto a prescindere all'eliminazione. Simona Itzo e Ricchi Tognazzi hanno dichiarato di essersi divertiti moltissimo e che è giusto che Stella sia rimasta in gara, perché è bellissima. Nel corso della serata Flavio Insinna, con la maschera d'oro, ha smascherato la rosa, ovvero Valeria Fabrizi, mentre si sono salvati lo scoiattolo nero e lo squalo. Grazie a tutti.